salve a tutti amici e amiche vi ringrazio per il sostegno e il supporto che state dimostrando in questi giorni i vostri commenti sono preziosi stessa cosa per i nuovi iscritti al canale che sono sempre più numerosi siete i benvenuti non dimenticate di lasciare anche un mi piace anche a questo video qui in basso ci sono i pulsanti per farlo oggi un breve aggiornamento della situazione sul campo e colgo anche l'occasione per affrontare un tema proposto nei commenti iniziamo con le notizie dal fronte l'esercito ucraino continua la sua avanzata nella città di voi chansk buona parte della città è stata liberata i russi in questo settore stanno perdendo posizioni anche se hanno inviato molti nuovi rinforzi nell'area urbana ci sono stati violenti scontri e gli ucraini hanno ripreso quartieri case e strade in queste aree che vi sto mostrando la sacca isolata di soldati russi che da quasi un mese si trovava nella fabbrica nelle ultime ore è stata circondata e sono iniziati gli assalti della fanteria ucraina mentre nella zona più a nord sono iniziati dei contrattacchi supportati dall'artiglieria e da droni la situazione a voi chansk mostra che l'ucraina ha intensificato le azioni in tutta quest'area e ci sono segnali positivi che la città possa essere interamente liberata nei prossimi giorni ci sono anche altre notizie inaspettate per cui i russi si stanno ritirando dalla zona a sud vicino a nipir al fiume di per e vicino a cherson in queste aree che vi mostro piene di boschi avevano concentrato la loro linea difensiva ma sono stati costretti a ritirarsi a causa di vasti incendi che hanno colpito l'area lasciando bruciare munizioni e veicoli circolano immagini che non posso mostrarvi in cui si vedono soldati cercare di mettersi in salvo ammassandosi sui camion ormai circondati dal fumo e lasciare molti indietro a causa delle fiamme che raggiungono ormai i veicoli in questi giorni tutta l'ucraina e così gran parte del caucaso è stata investita da un caldo allucinante con temperature fino a 40 gradi di massima con queste temperature gli incendi si sviluppano molto facilmente e che nell'aria sia nell'area sud che a est facilitando in qualche modo la resistenza ucraina distruggendo la copertura delle posizioni russe e permettendo gli attacchi con l'artiglieria sulle posizioni russe con più precisione altra notizia continuano gli attacchi strike da parte ucraina nella crimea occupata nella zona di sebastopoli nei giorni scorsi è stato colpito un deposito di munizioni penso che avete visto le immagini nei telegiornali deposito di munizioni e missili russo nel distretto di balacava quindi se la propaganda russa non dice niente a riguardo le colonne di fumo e gli incendi forse si spera che saranno sufficienti a ricordare alla popolazione che vive in crimea di non recarsi sulle spiagge che la russia sta portando avanti una guerra vera e propria non un'operazione speciale a senso unico nelle ultime ore un importante sistema radar moderno russo è stato distrutto un sistema yastrid una unità specializzata nell'individuazione delle posizioni dell'artiglieria ucraina gli ucraini hanno individuato l'unità con le loro ricognizioni ed è stata colpita poi con successo queste unità moderne sono molto importanti per la russia non ne ha molte quindi è stato un ottimo risultato per gli ucraini anche loro hanno a disposizione dei sistemi analoghi e sono molto importanti per individuare e triangolare il punto di partenza dei proiettili dell'artiglieria come ho già accennato nei video precedenti i russi stanno ripescando cimeli della guerra fredda sistematicamente mezzi e carri armati e anche pezzi contraerei che non si vedevano dagli anni 50 come questa postazione s60 che in teoria doveva essere compatibile con le munizioni gentilmente offerte dalla corea del nord ma le forniture coreane si stanno dimostrando spesso molto vecchie almeno di decenni e sono spesso difettose e purtroppo i soldati russi ne hanno fatto le spese proprio in queste immagini si vede che il colpo è esploso e purtroppo i soldati non ce l'hanno fatta i reparti ucraini stanno continuando a liberare i territori nell'area di jampovicca e poco più a sud in queste aree per circa 10 chilometri quadrati di territorio mentre i russi da parte loro continuano a spingere nell'area del donesk o a ovest del donesk dove hanno il grosso delle loro forze e mantengono l'iniziativa in particolare sono diretti al centro urbano di toresk new york si chiama proprio così si chiama new york da mesi ormai stanno cercando di raggiungere lo snodo stradale oltre il villaggio di vodovsk era incontrando però molta resistenza sono impantanati in questa situazione da mesi questa mattina hanno provato a lanciare un assalto con mezzi ma è stato bloccato ci sono le immagini di molti mezzi in fiamme nonostante le perdite subite enormi perdite subite come ho detto in tutto questo settore i russi continuano a spingere un attacco ucraino ha colpito nelle retrovie sempre nella foresta ci sono le fotografie da fonte russa che mostrano molti mezzi distrutti e tutta la boscaglia bruciata molti segnali da parte di osservatori e lo stesso deep state mette in allerta circa la possibilità che i russi possano chiudere questo settore e invita gli ucraini a fare molta attenzione in tutta quest'area ci sono state decine di migliaia di perdite da parte russa le truppe della wagner persero più di 5.000 soldati qui e a bakhmut sono state confermate più di 25.000 perdite da parte russa è un'area molto ben fortificata da entrambe le parti dove il conflitto ha raggiunto la maggiore intensità il territorio più a sud non è stato altrettanto fortificato e la russia ha potuto conquistarlo molto facilmente nei mesi passati già dall'inizio della guerra ed è rimasto praticamente invariato e molto è di peso dalla presenza di villaggi e città e ostacoli naturali che potevano essere fortificati mentre quindi appunto in presenza di ampi spazi aperti e pianure i russi sono riusciti a portarsi avanti molto velocemente da come possiamo vedere nella mappa dove i quadratini rossi rappresentano i reggimenti di fanteria e i reparti motorizzati maggiore è il loro numero e l'assembramento più quelle porzioni di territorio gli permettono di avanzare in quelle porzioni di territorio e certo possono anche avere mezzi scadenti e limitati ma il loro numero resta comunque alto in quella zona quindi la resistenza ucraina in quest'area dipenderà da quanto velocemente riusciranno a ottenere e di spiegare rinforzi per tenere nei giorni passati un gruppo di soldati russi feriti con il loro portavoce aveva lanciato un appello comune per poter tornare a casa ma quest'unità è stata costretta a tornare a combattere e ora questa unità risulta dispersa da parte dei parenti e amici è stato diramato un annuncio sui social che da quando il loro video appello è stato distribuito e circolato in rete non si ha più notizie di questi soldati gli stessi superiori di questo gruppo hanno affermato che l'intera unità risulta dispersa questo video annuncio ha creato tanto clamore in russia quindi è plausibile che siano semplicemente stati messi a tacere in qualche modo dalle poche immagini e video che arrivano dal fronte russo arrivano anche video in cui si lamentano i russi dei continui attacchi subiti con droni il cameraman di questo video dice di essersi salvato per un soffio mentre altri viaggiavano nell'altro veicolo accanto non sono stati altrettanto fortunati c'è una notizia che poi ha del tragicomico un ragazzo nepalese fra i volontari che stanno combattendo per la russia ha deciso di disertare e ora risulta ricercato l'annuncio del suo comandante dice fate attenzione a questo individuo non parla russo ma un inglese con un forte accento nepalese ha fatto parte di un gruppo di ragazzi con cui non si riusciva a comunicare gli dicevi di andare a destra e loro andavano a sinistra uno di questi doveva portarmi una cassa di munizioni per lancia granate e me l'ha lasciata cadere ai miei piedi io ho detto di stare attento altrimenti ci avrebbe fatto saltare tutti per aria ma lui non a lui non importava e ha iniziato a litigare quindi queste sono le lamentele dei comandanti russi e che hanno a che fare con i nepalesi che penso che sia normale che non parlino russo voglio dire in un'altra citazione sempre che deriva da fonti russe dai soldati russi questi ragazzi sono inadatti per le operazioni militari durante una marcia gli avevo chiesto di sparpagliarsi ma mi sono girato e me li sono trovati tutti ammassati dietro di me ho deciso di affidargli semplici mansioni di carico e scarico acqua e munizioni ma anche in questi ruoli si sono dimostrati poco affidabili e pericolosi per quanto riguarda il fuggitivo di prima non è un problema che abbia lasciato le nostre file ma in ogni caso per lui è una bella strada da fare dall'ucraina fino al nepal un'altra notizia dalla russia invece è che il veterano è pluridecorato comandante del 234 reggimento artium gadilo è stato arrestato oggi in russia questo comandante aveva preso parte nel 2022 alle operazioni contro la cittadina di buccia è responsabile per il massacro di civili il suo arresto secondo le fonti russe non è avvenuto perché è un criminale di guerra ma a causa di corruzione e riciclaggio di denaro non è difficile immaginare che la sua permanenza in prigione sarà probabilmente segnata da qualche incidente perché è un testimone scomodo dei fatti del 2022 la responsabilità di artium gabilo nel massacro di buccia venne fuori grazie alle intercettazioni di dozzine di suoi sottoposti che usarono i telefoni rubati ai civili ucraini per chiamare i loro parenti in patria in patria questi soldati poi furono decorati per l'eroismo delle loro azioni ma oggi le circostanze sono cambiate specialmente perché il conflitto sta degenerando in una disfatta e per quanto la narrazione degli eventi sia stata alterata dalla propaganda del regime i fatti di buccia ormai sono diventati di dominio pubblico nel frattempo continuano gli attacchi con droni e missilistici da entrambe le parti gli ucraini si sono concentrati su depositi di munizioni e centri di comando negli ultimi giorni i russi hanno colpito un impianto di stoccaggio di petrolio a palava nei giorni scorsi e poi hanno colpito a terra un su 27 e un su 25 ucraino sono stati distrutti sugli aeroporti per condurre questi attacchi i russi stanno continuando a usare i loro missili balistici skander che hanno un'enorme forza esplosiva e così nei giorni scorsi hanno impiegato addirittura anche una bomba da tre tonnellate e queste sono le notizie dal fronte ora veniamo alla seconda parte del video parleremo infatti della libertà di stampa in italia un signor gabriele un giorno fa mi scriveva ottimo video in un prossimo potresti approfondire cosa ci racconta la stampa italiana e se è manipolata dal governo e soprattutto perché l'italia è messa così male da questo punto di vista ho anche notato che parla quasi completamente al contrario di ogni canale di analisi militare come il tuo grazie gabriele per questo ottimo commento e spunto di riflessione diciamo che per quanto riguarda i media italiani è un discorso lungo e complesso nel nostro paese che ha avuto anche un passato che per certi versi ricorda molto quello che sta facendo la russia oggi durante il ventennio infatti nel 1925 entrò in vigore la legge numero 2307 sulla stampa che disponeva che i giornali potessero essere diretti scritti e stampati solo se avessero avuto un responsabile riconosciuto dal prefetto vale a dire dal governo per poter pubblicare nel 1930 il governo mussolini introdusse il codice penale elaborato dal ministro alfredo rocco conosciuto come codice rocco che poi è definitivamente sostituito è stato sostituito nel 1988 con il passaggio da un sistema inquisitorio a un sistema tendenzialmente accusatorio e con l'introduzione del cosiddetto giusto processo nel nuovo articolo 111 della costituzione le riforme hanno cancellato la filosofia persecutoria di base nonché molti articoli ma non tutti è rimasta per esempio la censura la censura in materia cinematografica fra le altre cose la censura in italia è palpabile non sembra ma è molto presente nel nostro paese e chi per esempio ha dimestichezza con gli inglesi riesce a recuperare o vedere le versioni originali dei film europei o americani e riesce a confrontarli con le versioni doppiate in italiano è molto facile incappare in doppiaggi manipolati ad hoc per evitare certe frasi così per esempio come la censura di alcune scene che non piacciono a chi poi si occupa di fare queste censure il codice penale rocco è tuttora in vigore pur essendo stato ampiamente modificato e novellato dal legislatore o dalla corte costituzionale il legislatore l'ha modificato parzialmente in più occasioni a partire dal 45 fino ad oggi l'ultima nel 1999 in sostanza molte norme di epoca fascista che regolano questioni minori come la necessità di autorizzazione per la stampa sono ancora in vigore e vengono ignorate o interpretate in modo addolcito dalla maggior parte dei pubblici funzionari italiani peraltro la mancanza di un ammodernamento della normativa penale ed amministrativa italiana alle nuove tecnologie costringe a interpretazioni talvolta ampie e talvolta restrittive da parte della magistratura con effetti deleteri che per esempio possono distruggere chiunque scriva liberamente pubblicando per esempio su internet o per situazioni paradossali che la fanno franca impunemente come per esempio i siti per adulti o altri che conducono attività illegali se non gli onmi presenti siti web e riviste predatorie che spacciano un'enorme quantità di fake news cattiva informazione dalle più ingenue teorie del terapiatismo fino a manipolazioni di origine estera infiltrazioni da parte estera che per esempio raggiungono un'enorme fetta di pubblico magari su facebook o che spesso fanno leva sull'ignoranza o le paure più intime più becere della popolazione sfruttando click e condivisioni pubblicità ingannevoli se non raggiri economici veri e propri molto facile che queste riviste e questi siti web apparentemente in italiano non vengano oscurati o perseguiti perché basta che abbiano la loro sede al di fuori del territorio della repubblica le stesse norme invece per chi ha sede in italia e pubblica qualcosa portano facilmente ad una condanna o una assoluzione a seconda dell'orientamento e della predisposizione del giudice che le interpreta si pensi che nel 2008 in base ad una interpretazione restrittiva di articoli del codice penale riguardanti l'obbligo di registrazione presso il tribunale di ogni pubblicazione che si è steso anche a qualsiasi sito internet quantunque non concepito per tale utilizzo lo storico carlo ruta che era uno storico pubblicista di saggi venne condannato in quanto gestore del sito web per stampa clandestina in primo e secondo grado fino a quando la corte di cassazione ha pronunciato l'assoluzione quindi su questo aspetto giudiziario ci torneremo fra poco ma vi ho dato giusto un input continuiamo con la storia italiana nel dopoguerra con la nascita e rinascita della costituzione i diversi schieramenti politici cercarono di esprimersi in favore della libertà di stampa pur mantenendo qualche compromesso perché restavano per esempio ancora in vigore le leggi sul sequestro degli strumenti e delle stampanti che suscitarono vivaci reazioni in molti importanti quotidiani come il tempo il popolo il corriere della sera così poi entrò in vigore la legge stralcio del 1948 che istituiva le regole di organizzazione gestione censura e registrazione dei giornali italiani nel nuovo ordinamento democratico ma vennero accantonati problemi più importanti come le perplessità sull'obbligo dell'iscrizione all'albo dei giornalisti che poteva costituire un limite di diritto di tutti a esprimere un pensiero libero la pubblicità dei finanziamenti per esempio la responsabilità penale per i reati commessi a mezzo stampa è la disciplina della diffamazione ok il particolare momento in cui ha operato la costituente all'uscita da un ventennio in cui la libertà era stata soppressa aveva spinto una larga maggioranza dei costituenti con un'ampia intesa fra forze progressiste e moderate ad individuare nella libertà di stampa uno dei cardini del nuovo stato democratico ok le uniche riserve erano state quelle di un controllo delle manifestazioni contrarie al buon costume ok la tendenza però prevalente era quella di considerare l'espressione solo in senso stretto come libertà di produrre senza censura preventiva solo testi e stampa e quindi arriviamo al dunque questo citando wikipedia l'articolo 21 e la libertà d'antenna sulla base di questa visione restrittiva del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero una larga e trasversale parte delle forze politiche ha sempre trovato motivi per restringere la libertà di espressione giustificando la presenza di un monopolio della rai in campo in campo radio televisivo adducendo il motivo che le frequenze disponibili sull'etere sono un numero relativamente limitato a distanza di 30 anni dallo scontro fra le due opposte visioni affiora ora in modo chiaro che gli aspetti giuridici della questione furono da una parte e dall'altra usati solo come pretesto per sostenere le proprie tesi con una spaccatura orizzontale dello schieramento politico i democristiani e comunisti difesero ad oltranza il monopolio rai il partito repubblicano tanto più piccolo dal punto di vista di presenza parlamentare prese netta posizione a favore dei principi di libertà e trasmissione ricordiamo nel 48 fu emanata la nuova legge sulla stampa legge dell'otto febbraio del 48 che abrogava le disposizioni del passato regime l'autorizzazione era sostituita dalla registrazione e la legge stabiliva tra l'altro quali indicazioni obbligatorie devono apparire sulle stampanti sugli stampati e sulle stampanti sugli stampati definiva le prerogative del direttore responsabile del proprietario dell'editore fissava le regole per la registrazione delle pubblicazioni periodiche e conteneva normi afferenti al reato di diffamazione a mezzo stampa responsabilità civile e riparazione pecuniaria in sostanza adesso questo lo devo commentare però questa nuova legge del 48 poche parole diceva che chi scriveva qualcosa a mezzo stampa doveva dichiarare la registrazione all'albo dei giornalisti di avere un editore un direttore responsabile tutto registrato in questo modo il giornale poteva essere nel caso considerato responsabile per i reati i reati di diffamazione a mezzo stampa e così per quanto riguardava il codice civile e penale e la riparazione pecuniaria annessa con il reato quindi di diffamazione a mezzo stampa vennero condannati decine di giornalisti a mesi di carcere risarcementi pecuniari dal 1950 fino ai giorni nostri ma questo lo vedremo più avanti la storia continua l'italia dopo essere stata sempre indicata come libera per quanto riguarda la libertà di stampa nell'annuale rapporto freedom of press dell'istituto di ricerca statunitense freedom house nel 2004 è stata considerata come un paese parzialmente libero a causa di 20 anni di amministrazione politica fallimentare della controversa legge gasparri del 2004 e della capacità del primo ministro di influenzare il servizio di trasmissione pubblica rai un conflitto di interessi fra i più flagranti del mondo oggi questo conflitto di interesse ce l'ha tolto il primato ce l'ha tolto solo putin tra l'altro la libertà di espressione e la libertà di stampa sono garantite dalla costituzione italiana nel 2005 nel luglio 2005 il parlamento ha votato per l'abolizione della condanna appena detentive in seguito al reato di diffamazione a mezzo stampa e meno male voglio dire ma gli emendamenti però non sono stati mai tramutati in leggi dello stato quindi ancora oggi un giornalista rischia la galera per il reato di diffamazione e quindi questo spiega perché i politici da allora e di allora come oggi continuano a denunciare per diffamazione a tutto spiano qualsiasi giornalista che gli capiti a tiro il politico dispone dell'immunità e ha un enorme potere giuridico o economico può portare avanti la causa a pagarsi avvocati e a tutto il suo schieramento che lo che lo copre il giornalista dovrà fare i conti con gli avvocati per anni l'italia è uno dei paesi europei più soggetti alla censura molti sono i casi documentati vi sono inoltre numerose proposte per regolamentare l'uso di internet e poi ci sono state altre cose ancora meno edificanti come la legge gasparri del 2004 dove il parlamento approvava una riforma delle leggi che regolamentavano l'emittenza radio televisiva noto come legge gasparri che introduceva alcuni cambiamenti come l'ingiunzione ad alcuni canali di passare alla diffusione per via digitale terrestre e la privatizzazione parziale della rai e questo ha fatto i danni comunque arriviamo ai giorni nostri con la par cosiddetta par condicio con l'espressione latina par condicio parità di trattamento si intendono quei criteri adottati dai mass media garantire un'appropriata visibilità a tutti i partiti e movimenti politici la par condicio si può considerare un'estensione del principio del pluralismo interno che si traduce anche nell'apertura alle diverse tendenze politiche in italia negli anni 50 la disciplina della propaganda e della comunicazione politica si limitava alla legge del 4 pile 56 che si limitava a definire alcune norme riguardanti la fissione di stampati e manifesti elettorali nei giorni nei 30 giorni precedenti alle elezioni nel decennio successivo la corte costituzionale si era pronunciata su una questione di legittimità costituzionale di tale legge sollevata in relazione all'articolo 21 proponendo per l'infondatezza della questione in questa sentenza però la corte ricordava che la legge mirava a porre tutti in condizione di parità quindi con la nuova legge del 75 l'articolo 4 stabiliva poi che la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi disciplina direttamente le rubriche di tribuna politica tribuna elettorale tribuna sindacale e tribuna stampa quindi più recentemente la legge del 2000 del 2000 sulla par condicio la legge nasce come particolare attenzione verso l'emittenza televisiva secondo la consapevolezza diffusa che la televisione è un medium insostituibile è un media insostituibile la televisione è il mass media più diffuso in grado di raggiungere milioni di persone e spostare altrettanti voti compromettere l'elezione di un politico con del vero giornalismo di inchiesta e con una campagna mediatica montata ad arte un osservatorio dedicato presso l'università di pavia misura settimanalmente le durate degli interventi dei politici durante i telegiornali e nelle tribune politiche anche in tempi non elettorali per verificare il rispetto dei tempi assegnati dalla legge il diritto ad accesso gratuito al mezzo televisivo è premessa per assicurare le possibilità di fare politica a chi non dispone di grandi mezzi personali per garantire un esercizio universale dell'elettorato passivo e più in generale per tutelare il diritto all'informazione da parte di tutti i cittadini ma come sappiamo la cosiddetta par condicio poi si allarga anche al modus operandi dei vari talk show anche su argomenti che esulano dalla propaganda politica perché alla fine come si dice tutto è politica no e quindi andiamo al commentare lo sbarco di profughi la guerra in ucraina il conflitto in israele lo stato pietoso delle prigioni ogni cosa in italia se fai intervenire intervenire un opinionista di uno schieramento politico devi far parlare anche l'altro cioè deve rispettare le regole del contraddittorio e della par condicio ok questa più o meno è la storia del nostro paese quindi mettiamoci nei panni di un giornalista per fare un esempio immaginiamo di voler fare un articolo contro una situazione grave in un istituzione un politico corrotto denunciare un grave illecito nei cosiddetti poteri forti un giornalista da solo non è nessuno verrebbe immediatamente zittito a suon di querele e minacce più o meno velate non importa se il suo articolo dice il vero o meno si aprirà un procedimento giudiziario a suo carico quindi il giornalista per prima cosa dovrà interrompere qualsiasi attività e avere la possibilità di sostenere le spese legali e quindi aspettare anni per i processi per l'esito dei processi poi gli appelli tutto quello che ne consegue nel frattempo il politico o il soggetto del suo articolo avrà ottenuto quello che voleva impedire impedire al giornalista di lavorare almeno non finché non si sarà chiuso il processo di conseguenza i giornalisti freelancer di base in italia hanno una vita veramente dura perché non hanno le risorse per contrastare l'enorme potere economico di chi viene attaccato a meno che il caso non è poi così enorme eclatante di enorme impatto mediatico a quel punto magari sì ci sono i presupposti per accelerare la soluzione dall'accusa di diffamazione anche quando i giornalisti sono protetti diciamo che è un lavoro molto difficile da un punto di vista editoriale un giornale un emittente televisiva non ha spesso la forza se non è diciamo parato se non ha un partito politico dietro quindi no è sempre tutto collegato faccio alcuni esempi tanto per citarne uno però ripeto io non faccio politica nel mio canale non c'è sto parlando solo di libertà di stampa però prendo un esempio fan page in questi giorni è stata coinvolta in un'inchiesta con dei giornalisti che si sono infiltrati più o meno penso che abbiate sentito la notizia ed era un loro diritto fare quel tipo di inchiesta voglio dire come fa un inchiesta un giornalista se non si può infiltrare però per questo sono stati comunque criticati da parte di alcuni elementi del governo quindi questo un po la dice tutta sull'atteggiamento dei politici nei confronti dei giornalisti che proprio mal digeriscono in generale potrei citare dozzine di altri esempi se non centinaia di casi in cui giornalisti sono stati querelati anche da persone che erano marce e corrotte fino al midollo questa pressione le querele le minacce da parte dei politici degli uomini con risorse con grandi risorse economiche o peggio da parte di mafiosi con il rischio di subire delle ritorsioni di vedersi la propria vita rovinata sono il principale monivo motivo per cui in italia siamo al 41esimo posto per la libertà di stampa in mezzo fra due paesi dove la corruzione insomma è il pane quotidiano taiwan e il bozzuana poi se dobbiamo parlare degli effetti della par condicio e del cosiddetto contraddittorio obbligatorio nelle trasmissioni televisive beh è fare come devo dire è facile fare degli esempi eclatanti e spicci storici nelle maggiori emittenti televisive non a caso ci sono sempre due ospiti uno dice una cosa l'altro dice l'opposto molto spesso questo porta a un litigio e a degenerare fra chi strilla di più nel frattempo lo spettatore a casa diventa scemo chiediamoci allora cosa succede se entrambi i due interlocutori poi non sono neanche preparati più di tanto su un argomento no che succede ci sono esempi straordinari di questo meccanismo no non posso fare nomi ma non posso dire quali trasmissioni ma insomma ci sono ormai alcuni esempi sono diventati dei classici dei must durante la pandemia per fare per parlare di argomenti scientifici che dovrebbero essere stati trattati in modo rigoroso e soprattutto non democratico cioè stai parlando di scienza la scienza non è democrazia non può essere democrazia si dava invece voce a opinionisti per la par condicio si dava voce anche ai novax e scusate ma che senso ha fare una cosa del genere quando la popolazione in quel momento aveva bisogno di poche certezze e solide così oggi che senso ha spiegare un conflitto una guerra in televisione dando voce a un politico che vuole raccogliere le briciole dei voti di quel piccolo 3 per cento degli italiani che sono evidentemente fanboy di putin o non vogliono sentire parlare di guerra a prescindere e dall'altra parte far parlare un giornalista che per quanto bravo magari non ne sa nulla di materia militare cioè non è il suo campo no gli esempi della degenerazione della par condicio in trash e schifio mediatico non si contano in televisione sono un po all'ordine del giorno alcune litigate sono diventate dei tormentoni a suon di capra 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 eccetera eccetera voglio dire tutte queste scelte editoriali alla fine però sono un grande autogol sono un po un cane che si morde la coda certo gli italiani vedono la televisione come una forma di intrattenimento alla fine ridono anche di questi personaggi ma come dire però alla fine queste trasmissioni raccolgono briciole si basano sempre sui dati di audience con quel piccolo campione di telecomandi sparsi in giro in italia che trasmettono la selezione in quel campione di famiglie che è stato selezionato per intenderci un canale youtube ha a disposizione statistiche per regione per città per età dello spettatore i commenti c'è un'interazione questo tipo di tecnologia per un dirigente un vecchio dirigente televisivo è fantascienza ancora non ci arriva e poi ci sono le influenze dei partiti politici di volta in volta che ciclano al governo mi è capitato tempo fa di trovarmi in una sede regionale della rai mentre stavano realizzando io scusate mentre io stavo realizzando un documentario a quell'epoca avevo ancora l'azienda di produzioni video ma questa è un'altra storia così mi ritrovai nella stanza di bottoni la sede di una sede regionale rai dove si organizzava la messa in onda del telegiornale è stata un'esperienza istruttiva in un certo senso che mi ha permesso di capire un poco i meccanismi all'interno della televisione di stato italiana e anche di spiegarmi perché poi i telegiornali italiani sono fatti in questo modo diciamo che fare più telegiornali al giorno è un lavoro quasi artigianale di taglie e cuci un poco improvvisato voglio dire gli speciali e le rubriche chiaramente sono un altro discorso ci mettono più tempo mentre i tempi dei telegiornali sono molto veloci sulla base spesso di notizie appena arrivate in redazione quindi a priori la trasmissione del telegiornale va divisa come una sorta di torta una sorta di orologio di 30 minuti devono essercene per esempio per legge 15 minuti che parlano di politica che poi questi vanno ripartiti in base ai numeri del governo fra i partiti di maggioranza di minoranza opposizione eccetera eccetera minuto per minuto cioè ogni partito deve avere il suo minutaggio in base alle percentuali di governo ma non sempre perché poi questo può cambiare anche in base a come è stato ripartito il consiglio di amministrazione in rai la restante metà del telegiornale poi deve affrontare tutti gli altri temi che arrivano principalmente da fonti accreditate come lanza oppure spesso si prendono pari pari dalle altre testate più importanti degli altri paesi in europa o in america e poi quindi troviamo la politica estera la cronaca lo sport e le curiosità la qualità dei servizi poi dipende da altri fattori dalle persone che sono state assunte a lavorare nel telegiornale no questo penso che si capisca in generale per restare su un discorso generalista la televisione italiana è un dinosauro morente che si trascina utilizzando sempre la stessa andatura è incapace di modernizzarsi un po' per convenienza un po' per pigrizia e un po' perché il governo vuole proprio che sia così è proprio come un dinosauro può essere considerata forte capace di muovere le opinioni delle masse di stogliere l'attenzione da temi più importanti ha ancora un enorme potere specialmente per la popolazione che la guarda che ovviamente non sono i giovani i giovani se ne fregano della televisione figurati la maggior parte degli spettatori sono vecchietti in poltrona o stesi a letto e non lo dico io questo è ovvio ma non solo poi oltre ai vecchietti ci sono tante agenzie che la controllano le imbrigliano con tanti impiegati che guardano i programmi e prendono nota cronometro in mano controllano che il minutaggio in cui si dà voce al politico di turno venga rispettato e poi scrivono molto attentamente ogni cosa che viene detta giorno per giorno minuto per minuto nel caso in cui qualcuno dica qualcosa che merita una bella strigliata o querela per diffamazione quindi questo è una delle cose che mi fa divertire ogni tanto quando la scopro e questo atteggiamento da vecchietti verso i nuovi social media nelle televisioni italiane che a volte riscoprono un po in ritardo oppure mi fanno troppo affidamento tipo prendere notizie da quello che ha detto il politico nel suo post su facebook qualcuno ancora da ancora peso a facebook a oggi oppure citano il tale ministro su tiktok quell'altro su twitch va bene insomma vorrei sapere cosa ne pensano gli adolescenti di questi politici sui social media ma anche in trasmissioni più autorevoli per esempio mi è capitato come mi è capitato di finire su rai storia per esempio che spesso chiama un idolo di internet come alessandro barbero anche lì anche rai storia che è un po più attenta e fa diciamo generalmente fa del buon giornalismo o ci sono degli storici accreditati che vi parlano non sempre si coglie questo bisogno di verità e di modernizzazione di nuovi metodi di comunicazione più freschi e diretti anzi spesso ho visto sentito dure critiche anche a canali qui su youtube da parte della televisione tradizionale che in qualche modo ha un atteggiamento di snobbare i nuovi canali su youtube i cosiddetti canali dei giovani vengono chiamati così ma che comunque bisogna riconoscere che questi canali su youtube hanno il grande merito di fare divulgazione presentarsi in modo chiaro e limpido e interagire con gli spettatori in un modo in cui la televisione proprio non non c'è mai arrivata essendo uno strumento attivo non interattivo qualche giorno fa per esempio ci sono state delle critiche o osservazioni come vogliamo dirla a break in italy ogni tanto mi è capitato di seguire seguire sono bravi quelli di break in italy non mi ricordo cosa è stato detto ma una cosa del genere tipo e adesso i giovani pretendono di fare giornalismo mettendo insieme pezzi e trasmettendoli su youtube ma che critica è soprattutto che significa perché in tutti questi anni cosa hanno fatto i giornalisti televisivi quindi è chiaro che il lavoro che può fare un pubblicista indipendente qui su youtube così come una piccola redazione che spende tempo per raccogliere informazioni le fonti estere le incrocia in qualche modo fa un lavoro di qualità e rappresenta un concorrente piuttosto scomodo per la televisione quindi non c'è da stupirsi se la stampa e la televisione italiana fanno informazione parziale o distorta a proposito del conflitto in ucraina perché sono imbrigliati sono legati come non sono liberi come le persone che circolano su youtube come ho detto anche in un precedente video è molto difficile fare analisi del conflitto bisogna avere poi una formazione particolare delle conoscenze di materia militare cosa che purtroppo manca in tanti giornalisti televisivi e nelle redazioni e fra l'altro per fare certi articoli che parlano del conflitto serve molto tempo che per i motivi che ho spiegato nei telegiornali non hanno quindi pescano molto dalla superficie dalle notizie ansa da altri siti di giornali e lo mettono in mezzo così lo mettono nel rullo compressore poi se una persona vuole approfondire beh sono affari suoi però di sicuro non fanno bene il loro mestiere da questo punto di vista credo di aver delineato più o meno la situazione dei maggiori organi di stampa ufficiali italiani la televisione italiana non merita secondo me di essere guardata o seguita perché ha perso quel treno di rinnovarsi da tempo per come la vedo io almeno i maggiori giornalisti storici che abbiamo avuto sono stati silurati licenziati nel corso degli ultimi 40 anni alcune volte nei modi più vergognosi possibile quindi un po per una legge darwiniana sono rimasti peggiori e oggi vanno avanti così io ho smesso di guardarla più di 25 anni fa mi limito a qualche telegiornale ogni tanto ma niente di più questa disillusione fra l'altro non è solo mia io penso che sia ampiamente condivisa ovviamente credo che tutta la mia generazione di gente nata negli anni 70 condivide un po questo pensiero voglio dire no è un po oggettivo che la televisione italiana è scadente voglio dire vi ricordate gli anni 90 no questa disillusione non è solo mia quindi insomma la televisione non rappresenta altro che la manifestazione di un governo che si è allontanato sempre di più dal vero spirito degli italiani con politici che sembrano più sempre di più dei capi che hanno dimenticato di fare il loro mestiere che dovrebbe essere di rivolgersi a tutti all'interesse di tutto il paese non solo a parlare alla loro curva e magari sono anche convinti che i cittadini siano tutti come la loro curva e che tutti devono absorbirsi quello che vuole solo la loro curva non è così non penso il fatto poi che più del 36 per cento degli italiani avente diritto al voto non ha votato le ultime elezioni ci dà un'idea del fallimento politico in corso un enorme gravissimo fallimento è un segnale che dovrebbe fare molto riflettere su come stanno andando le cose in italia ogni giorno che passa è un'occasione mancata e la televisione non è diventato altro che lo strumento del politico di turno di autocelebrarsi e sopravvivere per la serie minimo sforzo massima resa sto generalizzando ovviamente non prendetemi la lettera sia chiaro però ci sono anche delle eccezioni ci sono anche bravissimi giornalisti per carità ci sono anche bravissimi politici sicuramente ma insomma un po abbiamo visto abbiamo le prove del decadimento della qualità televisiva italiana io mi sono fatto un'idea poi ho fatto tante interviste agli italiani in passato più o meno ho capito come la pensiamo a livello delle siamo un popolo di famiglie con un grande spirito ironia siamo simpatici tiriamo avanti a campare sono grandi sacrifici però io penso proprio che la televisione italiana non rappresenta gli italiani così come la politica oggi cioè i veri italiani non sono rappresentati in politica almeno la stragrande maggioranza sono i veri italiani sono completamente disillusi lontani anni luce dalla politica comunque ho avuto una certa mi fa molto piacere che ho avuto una certa conferma del mio della mia linea di pensiero anche le dozzine di commenti che ho ricevuto ai miei video in questi giorni voglio dire secondo me non è neanche una questione di orientamento politico delle proprie idee politiche quello è il meno io sto parlando proprio di un desiderio di verità che abbiamo tutti in questo momento storico siamo tutti molto stanchi di questa narrazione che va avanti da anni quindi per rispondere alla seconda parte della domanda secondo cui la televisione italiana parlerebbe dicendo quasi il contrario di quello che dicono i canali di analisi militare credo che insomma sia dovuto ai meccanismi che ho elencato prima per quello che accade insomma che ho elencato non escludo comunque che questa è veramente una bella domanda come ho detto non guardo la televisione e non guardo neanche youtube italia fra l'altro tanto che qualcuno nei commenti ha citato altri youtuber secondo cui io sarei in antitesi ma sinceramente non li avevo mai sentiti neanche nominare quindi non so chi siano credo che la televisione italiana sia vittima delle forze politiche che la governano quindi con questo credo di aver detto tutto c'è però da considerare che il governo italiano e la televisione sono una cosa lo stato e le istituzioni sono un'altra non bisogna confonderle l'opinione pubblica non viene coinvolta nelle scelte militari e tattiche del nostro paese il supporto all'ucraina non è stato quasi neanche considerato materia di dibattito parlamentare in un certo senso le azioni della difesa le missioni all'estero tutto quello che riguarda la sfera militare non è condiviso ai media per motivi di segretezza almeno non al grande pubblico se non rarissimi casi di trasmissioni ufficiali che hanno un vago sapore propagandistico condotte da alberto angela di turno o pochissimi privilegiati quindi questo è forse è anche questo un atteggiamento che allontana dalla divulgazione di certe tematiche e coinvolgimento del grande pubblico che si può criticare questo atteggiamento voglio dire in altri paesi europei o negli Stati Uniti c'è proprio una grandissima apertura da questo punto di vista c'è un continuo aggiornamento delle notizie sul fronte, dei inviati sul campo c'è più libertà da questo punto di vista quindi grazie per questo commento e grazie per le considerazioni che condivido quando ho detto di portare avanti questa idea l'ho fatto proprio per questi motivi ho preso la mia passione più grande per l'aviazione e l'ho portata qui su youtube quindi quando affronto il conflitto in Ucraina ci metto del mio per cose che ho studiato e letto da una vita ho ammesso già di essere più ferrato sull'aviazione militare e sistemi di difesa l'ho sempre detto poi semplicemente se devo pubblicare qualcosa apro una ventina di canali internazionali che parlano delle ultime notizie, cerco di capire le differenze nelle visioni di questi canali poi apro i siti web da cui prendono riferimento, cerco di incrociare le fonti dei siti web cerco di capire se una notizia è vera o artefatta da parte ucraina o russa che sia e via così e posso anche sbagliare, l'ho detto più volte l'analisi del conflitto in Ucraina non è per niente facile ci vorranno anni per chiarire meglio i suoi numeri e le perdite di entrambi i lati ci vorrà il lavoro lungo e particolare degli storici che insomma arriveranno a dei numeri un po' più precisi alla fine per fare un video di questo tipo io ci lavoro per giorni, settimane a volte con picchi di lavoro fino a 16 ore di fila davanti al pc fra scrittura, editing, pubblicazione non sono perfetto, sono umano, posso sbagliare anch'io per questo leggo molto attentamente i vostri commenti anche per migliorarmi perché so che ci sono tante persone là fuori anche più esperte di me che commentano quindi per oggi è tutto vi ricordo che se volete sostenermi qui sotto trovate tutte le opzioni per farlo come sempre un grande abbraccio alla prossima